Mio figlio è stato ammazzato. Mentre lui moriva, al pronto soccorso litigavano per decidere chi dovesse salire sull'ambulanza, che doveva portarlo a fare un angiotac. Sono durissime le parole del padre di Antonio Scafuri, il 23enne morto nella sala di rianimazione dell'ospedale Loreto Mare, a Napoli. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso in codice rosso ed è morto dopo aver aspettato per diverse ore un trasferimento mai avvenuto. La denuncia è del responsabile del pronto soccorso dell'Oretto Mare, Alfredo Pietro Luongo, che ha parlato di inosservanza dei più elementari doveri professionali. La famiglia del ragazzo si è chiusa nel dolore lasciando che adesso sia la giustizia a parlare. Il padre ovviamente ha usato queste parole forti poiché sicuramente ci sono stati dei ritardi in alcune operazioni. Tuttavia allo stato attuale rimangono delle ipotesi, noi dobbiamo ovviamente vagliare con i nostri consulenti tutto quello che è accaduto. Forniremo anche noi nei giorni prossimi la nostra versione dei fatti all'autorità competente che formalizzeremo in una denuncia querela. Il ministro Lorenzin ha immediatamente inviato una task force che dovrà far luce sull'intera vicenda, che non è la prima di malasanità in Campania, dalle formiche dell'ospedale San Paolo fino ai furbetti del cartellino dell'Oretto Mare che giocavano a tennis durante il turno di lavoro. Molte di queste denunce arrivano dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Dimentichiamo che la sanità campana oramai festeggia dieci anni di commissariamento. Abbiamo medici straordinari, infermieri stupendi, personale e amministrativo che fa il triplo di quello che dovrebbe fare. E poi abbiamo Gentaglia che purtroppo spesso è stata protetta dagli stessi medici e dagli stessi infermieri.